Il staccanimento mediatico verso un movimento che ha ricevuto 700.000 voti da parte dei cittadini romani sia un po' troppo, per cui io parlerei di questo evento che è bellissimo e tra l'altro è stato descritto sulla stampa come qualcosa che assomigliasse a una ribellione, ma non è così di fatto, questo ve lo garantisco, lo sapevamo anche prima, dopodiché continuiamo a lavorare per la città, questo penso che sia l'unico obiettivo che il Movimento 5 Stelle deve avere per rispetto appunto della volontà popolare.